Ci troviamo in una situazione di non ritorno, per questo scioperiamo. Braccia concerte il primo novembre da parte di tutti i lavoratori del commercio legati alla CGL. Uno sciopero che diventa necessario, ha commentato il segretario generale della CGL Bari, Gigi Abucci, per far fronte a quella a cui stiamo assistendo. Ci troviamo in uno stato di emergenza, ha tuonato la Bucci, ma molti non lo hanno ancora capito. Sciopero quindi per la categoria dei lavoratori del commercio per tutta l'intera giornata. Non c'è senso di responsabilità né da parte delle imprese né da parte delle istituzioni locali. Tra gli ultimi episodi che hanno fatto riflettere il sindacato, il silenzio da parte di comune e regione sulla scelta di una grande catena di distribuzioni di mobili che ha fatto entrare nel suo store di Bari 1.700 persone contemporaneamente. Una situazione che doveva essere ammonita, sostiene la CGL, alla luce dello stato attuale. Le terapie intensive, ricorda, sono al limite della capienza, a momenti sature o che lo saranno tra pochi giorni, dato l'aumento esponenziale dei malati, anche di quelli gravi, e con il personale medico infermieristico costretto a doppi, tripli turni, stremati e costantemente in pericolo di contagio. Il sindacato quindi chiede un incontro immediato con il prefetto per valutare correntemente insieme le giuste scelte e visto il costante aumento dei contagi da Covid-19, anche il sindacato chiede a tutti i cittadini responsabilità e il rispetto di osservare le regole e comportamenti sia per i lavoratori che per i clienti. Siamo preoccupati per il lavoro di tutti, si legge a conclusione della nota diffusa dalla CGL Bari, ma siamo terrorizzati anche dallo stato di salute dei cittadini. Ora, come non mai, è doveroso chiudere i centri commerciali nel fine settimana, una battaglia che la categoria porta avanti da anni. Grazie. Grazie.